Un primo passo, certo, ma di punti di domanda ne restano in abbondanza. Il comune di Abbiategrasso ha deciso di partecipare al bando regionale per migliorare l'accessibilità alle stazioni ferroviarie e ha presentato un progetto che prevede la creazione di un sottopasso che consenta a ciclisti e pedoni di evitare il passaggio a livello di Viale Mazzini, passando quindi all'interno della stazione ferroviaria e uscendo direttamente dall'altro lato dei binari su Via Giramo. La stesura del progetto, elaborato dall'Ufficio Sviluppo del Territorio dell'Amministrazione, ha visto anche la partecipazione di RFI. A riprova del fatto, sottolinea il sindaco Cesare Nai, che si tratta di un passaggio propedeutico perfettamente inserito nel piano complessivo del raddoppio. Già, il raddoppio. È vero che un sottopassaggio come quello proposto per il bando regionale risolverebbe i problemi per ciclisti e pedoni, ma il tema vero riguarda e continuerà a riguardare l'eliminazione dei passaggi a livello per il traffico auto, in particolare quello di Viale Mazzini. Il Comune ha sempre affermato che eliminarli non sarebbe un problema, ma il vero rebus è come e soprattutto con quali risorse. Gli sforzi, aggiunge Nai, sono concentrati oggi nell'individuare interventi concreti il più possibile funzionali alla connessione tra le diverse parti della città. Al momento, dunque, si lavora al lato ciclopedonale del problema. Il bando regionale scadrà il prossimo 18 novembre e complessivamente mette a disposizione 41 milioni di euro a fondo perduto. Si vedrà solo allora se la prima tessera di questo complicato mosaico verrà messa al suo posto.